Ultimo saluto al partigiano Antonio Amoretti. Classe 1927 aveva compiuto 95 anni lo scorso settembre. Aveva 16 anni Amoretti quando il 28 settembre del 43 decise di scendere in strada e combattere le truppe nazifasciste che occupavano la città. La sua missione era andare nelle scuole e raccontare ai ragazzi di oggi che cosa sono state le quattro giornate e diffondere i valori della resistenza. Per molti anni ha guidato la sezione napoletana dell'Ampi l'Associazione dei Partigiani d'Italia. Per lui una commemorazione laica nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente dell'Ampi Gianfranco Pagliarulo. Sentiamoli. Antonio Amoretti è stato un uomo che ha saputo sempre rappresentare i principi di libertà e di democrazia della nostra città e lo ha fatto lavorando nelle scuole con i giovani e sempre con una presenza che è stata sempre una presenza forte che ha ricordato questi momenti importanti della nostra storia e i valori della democrazia e della libertà. Quindi a lui Napoli deve molto e il suo ricordo sarà sempre un ricordo vivo nella memoria dei napoletani e della città. Tonino Il Biondo, questo è il suo nome di battaglia. La cosa che mi ha sempre colpito è che lui ha sparato, lui è stato sparato, diciamo sfiorato da una pallottola, vi sono stati tanti caduti. Eppure lui era contro la guerra, era per la pace, riteneva che la guerra fosse un inutile massacro. In quel momento era necessario scendere in campo con le armi, con tutta la popolazione napoletana e lo fece. Eppure lui era per la pace.